...elevato forze per lì in arrivo su questa vita. Mantenete la posizione e non lasciate il passato. Facciamoli! Se i ribelli cattureranno questi posti di comando, avranno modo di continuare ad avanzare. Non dobbiamo scendere! Non dobbiamo scendere! Non dobbiamo scendere! Non dobbiamo scendere! Quei i ribelli ci hanno respinto, ma non è niente di grave. Tenetevi pronti a respingervi! Sto modificando il piano di difesa. Radunatevi intorno a questi posti di comando. Granato! Prendiamo l'aria! Non abbiate pietà! Granata pronta! Rinforzi delitti in fase di schieramento! Rapparate pietà. Conocco la granata! Tratta la granata! Oh, 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 oh. Questo è qui, ci darà un netto vantaggio. Siamo stati costretti a ripiegare, ma è ancora tutto da vedere. Alla fine, prevarremo. I ribelli stanno riprendendo l'attacco. Dobbiamo difendere queste posizioni. I ribelli sono qui. Lord Vader è qui. Radoppiare gli sforzi. Ormi pesanti fronte. Non di nuovo. Via, via. Salto alla roversa! Oh, damn it. Oh, damn it. Posizione fortificata! Dipendere in aria! Concentrati. Il comando ci ha mandato un alleato. Sta arrivando. Aiden Versio, squadra Inferno. In attesa. Concentrati. Una prima idea, quella di affrontare. La bomba sta venendo a fredda. La bomba sta venendo a fredda. La bomba sta venendo a fredda. più skywalker è stato avvizzato schiereremo qui l'ultima linea di ripeta tutti pronti non possiamo perdere questa posizione o verremo spazzati via ci batteremo fino all'ultimo soldato procedere all'area bersaglio porto all'aria 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 24 No, no, no! No, no, no! 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 No, no!